eccoci qui allora oggi allenamento al campo dei fiori di Varese ho parcheggiato la macchina giù in attestazione, sono saliti un pezzo poi ho cominciato a fare un po' avanti e indietro per sciogliere un po' le gambe che sono ancora un po' faticate da 100 km di settimana scorsa e niente adesso sono arrivato al South Gross e niente saliamo su questo sentiero per andare verso Pian delle Noci se non erro e poi salite al Forte di Orino, ci vediamo su quello che rimane è una piccola sorpresa che c'è stata tre anni fa o anche, ha distrutto tutto ha cancellato completamente la pineta, è l'ultimo tratto ad arrivare sul Forte all'alto si vede ancora meglio il sentiero che c'era prima non c'è più ha fatto questa deviazione all'alto si vede ancora